Seconda edizione di Futura Festival, la Civitanova Marche, dottor Trolli, avete chiesto aiuto al passato per parlare del futuro? Sì, un futuro senza radici rischia di essere senza forma e senza contenuto. Siamo nani sulle spalle di giganti, dobbiamo saperlo, quindi se vogliamo avere soluzioni per un futuro che a volte ci fa anche paura e quindi ha bisogno anche di ricette ben fondate su radici profonde, sono convinto che un ritorno indietro a cercare l'UMI dai vecchi maestri può fare solo bene a noi e soprattutto alle nuove generazioni per dare fondamento alle idee e ai progetti, altrimenti rischiamo di rifare gli errori che abbiamo già fatto. Futura Festival parte dal passato, analizza sotto tanti aspetti e tanti linguaggi, il futuro lo fa anche con diverse sezioni? Sì, si va dalla filosofia alla letteratura, si va dalla scienza alla sociologia, abbiamo voluto raccontare un possibile futuro in tutte le dimensioni oggi in campo, nel campo appunto della ricerca, perché abbiamo bisogno sempre di più di essere persone della modernità che quindi devono fare tesoro di tutte le scienze umanistiche e di carattere diciamo matematico, filosofico per poter affrontare un momento decisivo per l'umanità, perché siamo di fronte a grandi svolte insomma, quindi abbiamo cercato di radunare a Civitanova gli intellettuali che ci possono dare una mano, dai grandi intellettuali internazionali come Bauman o come Ritter oppure le grandi figure della cultura italiana che ci possono dare una mano. Dieci giorni dove a Civitanova Marche si parla di futuro e non solo, lo faranno tanti protagonisti che dibatteranno su tematiche che fanno riflettere? Sì, assolutamente sì, con un livello incredibile, internazionale molto spesso e sempre interessante, con un livello che alterna e con un palinzesto se posso dire così, che alterna momenti di assoluta serietà con momenti di svago riflessivo in un susseguirsi complessivo, intenso e serrato, un festival degno di città più grandi della nostra.